I love you Bella ragazzi bentornati in questo nuovo video Oggi è 7 novembre Non vi serve un calendario Però oggi è 7 novembre signori E quindi è lo speciale compleanno Allora ragazzi oggi appunto siamo qui su FIFA Come potete ben vedere Ho la maglietta del Bayern E quindi giocheremo con la Roma Non c'entra un cazzo Come potete anche ben vedere dalla grafica Andremo a giocare contro Cittadella che magari voi non lo conoscete Però è praticamente il USM Italiano No manco questo non c'entra Vabbè che cazzo Vabbè comunque signori vi ricordo di lasciarmi gli auguri qua sotto No vabbè lo sapete che vengo sotto casa Però vabbè allora iniziamo la partita Ok signori La partita comincia Qui il Cittadella In possesso palla Allo stadio olimpico Abbiamo Esharawi che Che pressa Pedrelli Ok 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 Ringgolan recupera il possesso palla Passa a Totti Totti cerca una Aspetta fermi tutti Non ho i miei comandi Da quanto tempo signori Allora dei rossi Signori sulla faccia Sulla faccia scatta Passa a Salah Salah potrebbe andare per il cross Però non trova nessun compagno Va per il cross E E Sta provando Non ci riesce Riprende il cross E Va alla palla D'Alfonso Ma come fai a farla D'Elebron Salah signori Oh 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 Non succede niente Ok È successo Ci ripassano la palla Peres Che va a passarla Palesemente a Non ci sta Il Ciarawi Il Ciarawi Ok Il Ciarawi Poi vada a centrarsi Alla porta Prova il tiro Signori Il Ciarawi È una pippa Andiamo ovviamente Per il cross Regolare E abbiamo fatto un cross Molto brutto E ora andiamo a segnare Signori Eeeh Non so chi ha fatto il gol Ma abbiamo fatto gol Signori Con Nainggolan Passaggio di qualcuno Però Sì Salah signori Salah corre sulla faccia Prova a smarcare Pasa Ma non ci riesce Signori Salah va per il cross Marcando il suo amico Che non ci riesce Palesemente Non so cosa sta succedendo Signori Potrebbero provare a fare Un bel tiro Ma non ci riescono Ok Abbiamo Totti Salah corre sulla fascia Prova una finta strana E Cross Tiro di testa Niente Scherza Non è gol Non è È palesemente non gol Perché Alfonso È Cristiano Cicolari Vabbè comunque Scusate Un piccolo intermezzo Allora Salah Signori Cross No Calcio d'angolo Non è un cross quello Calcio d'angolo Dalla destra Della porta Ok Abbiamo qui Signori Arrighini Che fa un giro palla Che Cioè ci sta un giro palla Alla fine Signori La palla viene ripresa Da Salah Salah Prova per il tiro È gol Signori Gol Roma 2-0 Al 35esimo Praticamente Ok signori Si riparte con il Cittadella Chiaretti Passa Iori Iori Passa l'ora Schenetti Con un pallonetto Che era palesemente inutile Però fa figo Su FIFA Quindi Pascali fa Non si sa cosa Riprende palla La Roma Totti Passa A Dzeko Signori Dzeko potrebbe andare per il gol Oh la finta Oh signori La finta Oh mio dio Oh gol 3-0 La Roma 41 42 se mi aspettavo Minuto Roma 3-0 Una partita che ormai sembra palesemente vinta dalla Roma Signori 3-0 Roma che ha ubriacato il West Ham italiano Pericoloso Andranno a metà campo E prova a fare cose Non si sa cosa sta Sta cercando un compagno libero Lo trova a Righini E va per il pallo Cosa sta succedendo signori Florenzi fa un passaggio filtrante lungo Non è assolutamente fuori gioco Sala signori Va per il cross A Il Sharawi Signori La palla viene presa da Totti Gol Un 4-0 Al 52esimo Perfetto Di prima signori Da Francesco Totti Numero 10 Capitano storico della Roma Misterioso signori Francesco Totti 52esimo Gol Numero 10 Non è il 52esimo Gol di Totti Però l'ha fatta al 5 Vabbè Allora signori Abbiamo questo Cosa è successo Totti prende palla In un modo clamoroso Signori Va a passare la palla A Salah Salah si trova in difficoltà Non so cosa è successo Signori Questa vittoria È stata Veramente Veramente Sudata No Non è vero Però è stata sudata Signori Come potete vedere Qui ci sta Il West Ham Che si sta Disperando E sta Probabilmente Imprecando Come Al contrario Invece Sta facendo Dzeko Sta ringraziando Tutti i suoi numerosi fan Che lo seguono Su Instagram E Facebook Li sta salutando Che manco Papa Francesco Quando hanno aperto Quando hanno aperto Le porte del Vaticano Comunque signori Siamo arrivati Alla fine Di questo video Speciale Compleanno Come al solito Spero che vi sia piaciuto Raggiungiamo un minimo Di mille like Se non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E E Aspetta Aspetta Ah Dio no Regà Mi sto dimenticando Auguri Fede Allora Com'era quindi Bella ragazzi Bentornati In questo nuovo video Bentornati Oh Non è difficile Prova a fare Così completa Bella ragazzi Bentornati Ehi Non ti viene Ehi Non ti viene E' imbanzato Togli 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 Ciao Ciao Ciao